Vorrei che alzassimo un attimo dalla testa dalle questioni nostre e guardassimo quello che succede in Europa, in particolare in Grecia. Io mi vergogno di come l'Europa si sta comportando con la Grecia, perché si può indurre un paese a rigore, ma non si può ucciderlo. E tanti di quelli che oggi predicano la virtù hanno guadagnato dai vizi e hanno fatto profitti sul debito greco. Adesso non si può massacrare la gente comune e bisogna che l'Europa riprenda il suo tratto basico e fondamentale, che è sempre stato un tratto di solidarietà. E mi auguro che dalle opinioni pubbliche progressiste europee venga una voce forte. Non possiamo assistere a uno scempio del genere.